Finalmente questa nuova apertura anche a Foggia, ma come sta andando? Molto bene, molto bene. Noi siamo partiti un po' avvantaggiati perché ci siamo portati comunque dietro due anni di consegne fatte qui a Foggia dalla sede di Cerignola, quindi siamo partiti comunque avvantaggiati. Comunque sì, molto molto bene. La risposta quindi si è fatta sentire, ma qual è il tuo valore aggiunto? Niente, il valore aggiunto sicuramente è la freschezza e la genuinità del prodotto perché comunque la gente ha potuto appurzare, ripeto, in questi due anni comunque anche se lo prendeva solo da sporto, la freschezza del prodotto sempre. Comunque noi approvvigioniamo due volte a settimana il prodotto e quindi comunque il prodotto è sempre molto molto valido. La risposta sì, la risposta c'è stata. Devo dire che sono molto contento della clientela di Foggia. Lo ero già prima in realtà. A quanto pare a Foggia è Sushi Mania. Come sta andando dall'apertura? Allora, il lavoro sta andando molto bene, siamo molto contenti. All'inizio avevo questo pensiero di fare un locale instagrammabile e di avere tutti i ragazzi giovani da noi. Però con l'andare del tempo ho notato che questi ragazzi stanno portando anche i suoi nonni a mangiare il sushi che finora non avevano mai provato. Spesso vedo anche dei nonni di intorno a 65-70 anni che vengono in gruppo a mangiare. Quindi su questa cosa sono rimasto molto contento. Insomma, si avvicina anche il pubblico più adulto, ma qual è la vostra particolarità? Allora, la nostra particolarità ci sono dei piatti tipici del nostro locale e soprattutto ci sono dei piatti che usiamo esclusivamente le salse fatte dal nostro chef. Dal 3 gennaio c'è un nuovo sushi qui su Via Vittime Civili, ma come ha risposto il pubblico? Sì, siamo aperti dal 3 gennaio, però l'inaugurazione è il 3 gennaio, poi l'apertura è partita dal 4. Però siamo partiti benissimo, pure la zona che è bella, il locale che abbiamo fatto è un gigante. Quindi possiamo dire che ai foggiani piace molto il sushi? Sì, ai foggiani piace molti, assai, assai. A questo punto non posso non chiederti, dal Pakistan poi a Foggia, perché hai scelto proprio Foggia? Perché sono arrivato il primo giorno a Foggia. Comunque mi piace, perché tante persone dicono che perché tu hai scelto Foggia per aprire questo locale. Comunque io l'ho detto che tu, voi non siete capisci foggiani, che come sanno, perché io conosco tanti foggiani, le persone grandi, comunque trattano bene, come mi mettono, come una famiglia e mi piace tanto Foggia, per quello ho scelto Foggia.